benvenuti a tutti allora la prima cosa che vi devo dire che ieri non ho potuto registrare l'ultima giornata di andata perché mi è arrivata una telefonata sul gruppo che abbiamo noi qua in casa abbiamo dovuto fare un certo tipo di discorso e ho dovuto fermarla e cancellarla perché se volevo riprenderla diciamo che non era non era possibile sarebbe stato un download di più di due ore io comunque per onestà vi faccio vedere com'è andata a finire perché è giusto che la dovete vedere allora noi arrivovamo da una serie non positiva dopo la vittoria con l'Ancona sconfitta con l'Inter sconfitta pesantissima col pescare in casa e poi siamo andati a vincere una bella partita firenze e poi guardate qua è finita questa giornata è finita così abbiamo rischiato il pareggio qui è l'udinese ha giocato molto bene soprattutto nel nella fase di secondo tempo la lazio ha vinto con la fiorentina il milan di nuovo ha vinto quindi in risalita col pescara il brescia che batte l'inter 4 a 1 questa è una sorpresona foggia ancona scontro per la salvezza finisce 0 a 0 così come sampdoria parma il napoli pareggia in casa col genoa continua a vacillare questo napoli e il big match finisce 1 a 1 roma juventus 1 a 1 il cagliari batte l'atalanta 4 a 0 vi faccio vedere chiaramente la classifica andiamo sul data e dai sul database scusate andiamo subito analizzare la classifica eccoci qua abbiamo concluso a 34 punti 11 vittorie un pareggio 5 sconfitte 34 gol su fatti 19 subiti che non sono pochi perché sono la media di un gol subito a partita direi che fin qui abbiamo giocato un campionato buono classifica leggermente che si è allungata ma non bisogna dare nulla per scontato un'altra squadra che ha fatto molto bene alla sampdoria fin qui che ha tenuto testa tra noi l'inter un po' la lazio e se vogliamo anche un po' il cagliari perché guardate il cagliari dov'è è sempre lì non molla quasi un colpo bene la lazio che insomma si conferma un buon attacco 24 gol in 18 partite 17 partite direi che è un buon bottino e poi via via gli altri il cagliari ha disputato anche lui in giro è andata stupendo l'inter alti e bassi roma e milan direi loro che si sono soprattutto il milan ma anche la roma se ricorderete dove era all'inizio si è ritirata molto su il genoa da dopo che ha vinto con noi ha collezionato dei risultati bellissimi è riuscito arrivare a metà classifica così come l'udinese e anche la juve che si è ripresa si è ripresa molto la juventus parma diciamo dopo un inizio abbastanza buono ha fatto un po di tracollo brescia che risale quindi si allontana dalla zona retrocessione vi ricordo che circa un mese fa era appena ultimo con l'ancona ultimo se non sbaglio pescara è sempre lì malissimo fiorentina e napoli non me l'aspettavo soprattutto dal napoli con i giocatori che ha e in zona bassa guardate alla fine del girone d'andata il napoli non è tranquillo così come la fiorentina così come anche il pescara e lo stesso brescia perché sette punti su l'ancona sono veramente niente foggia che rimane sempre ultimo 13 sconfitte mamma mia e prossimo anno penso che un elemento due li dovrà assolutamente prendere perché io ho in mente di fare anche un po di calcio mercato qua nel senso che cambierò uno o barra due giocatori ci saranno magari degli scambi vedrò come fare andiamo a vedere ancora un'analisi in questo girone d'andata direi che si conferma miglior attacco in assoluto alla roma con ben 33 gol fatti quindi un attacco buono un attacco che ha risposto molto molto bene in questo girone d'andata anzi no scusatemi miglior attacco il toro per un gol sulla roma 34 riette chiedo scusa al secondo posto c'è la roma 33 e terzo posto terzo posto ci sono milan e genoa quarto cagliari e inter e via via le altre peggior attacco sicuramente sono abbiamo l'ancona e il foggia con nove reti la miglior difesa se vogliamo proprio vederla tutta è sandoria e lazio sono sandoria e lazio con 13 gol solo subiti quindi sono due difese molto molto difficile da scardinare la peggior difesa beh nonostante tutto non è il foggia ma bensì sono ancora e atalanta con 34 gol subiti incredibile quasi la media di due gol subiti no è la media di due gol subiti a partita vediamo ancora una cosa la squadra che ha subito peggiori sconfitte diciamo in totale è il foggia con 13 sconfitte poi c'è l'atalanta e al terzo posto l'ancona chi ha fatto più vittorie è il torino 11 vittorie e poi via via non vi sto a linkare perché le altre sono tutte lì più o meno meno pareggi il toro un pareggio solo e niente queste sono un po le statistiche che ci sono state nel giro nell'andata andiamo a vedere la classifica gol abbiamo van basten con 14 reti ha segnato la media quasi di un gol a partita al quarto posto abbiamo vieri a secondo francescoli e sosa dell'inter a pari merito poi abbiamo vieri roberto mancini a sette insieme a signori scifo sei gol e via via come potete vedere tutti gli altri ora ragazzi io ho deciso di registrare di nuovo tutte le partite del girone di ritorno perché non avrebbe senso non registrarle visto che l'abbiamo incominciato anche perché poi io mi andrò a creare una playlist e quindi rimarrà poi tutto sulla playlist e sono sempre ricordi cosa dire andiamo ad analizzare poi la farò questa partita chiaramente guardate la prima giornata di ritorno lazio torino milan fiorentina brescia pescara foggia inter sandori ancona napoli parma roma genoa un bellissimo cagliari juve e atalanta udinese direi che le partite più belle qui sono lazio torino milan fiorentina un interessante brescia pescara che può valere molto a sandoria penso che qua a meno che non tracolli dovrebbe fare il risultato bottino pieno noi abbiamo una partita difficile all'andata la lazio giocò una grande partita se vi ricordate e ci fece due gol quindi in quell'occasione abbiamo perso cagliari juve cagliari juve è una bella partita perché la juve ripresa cagliari sta andando molto bene romageno anche questa una buona partita e poi via via ci sono le altre ragazzi io direi di salutarci qui e darci appuntamento al girone di ritorno io piano piano vi posterò le partite del girone d'andata e poi niente poi andremo avanti chiedo ancora scusa per la partita dell'udinese però chiaramente non si poteva non si poteva registrarla era impossibile con questo io chiudo e grazie a tutti se vi è piaciuto questa serie a livello che siamo arrivati a metà insomma vi ringrazio grazie a tutti e una buona mattinata ciao